La zona di via Liguria e via adiacenti, quindi il centro commerciale Liguria, si arricchisce di una nuova realtà, Nuti Service, in via Campania, ambulatorio infermieristico e poliambulatorio medico. Una realtà importante perché poi svolge una funzione di tradunion, di cerniera con i medici di base e quant'altro. Ho al mio fianco le contitolari Fiorella Saddi e Alessia Mirabile. Allora andiamo nello specifico, la nuova offerta per i clienti. Offriamo praticamente una serie di servizi ambulatoriali, visite medico-specialistiche ai pazienti che si rivolgono al nostro centro, che riguardano soprattutto l'ostetricia e la ginecologia, che riguardano la chirurgia, in quanto siamo dotati di un piccolo ambulatorio chirurgico dove facciamo interventi di primo livello in anestesia locale, quindi interventi molto semplici dermatologici. Per cui ci avvaliamo anche della collaborazione di un dermatologo, di un chirurgo e di vari altri specialisti che si avvicendano nel nostro poliambulatorio. Il nostro punto di forza è l'ambulatorio infermieristico, che svolge un'attività di cerniera con gli studi dei medici di base, per cui svolgiamo un'attività prevalentemente di assistenza domiciliare ai pazienti che hanno bisogno della nostra assistenza. Sentiamo l'altra contitolare, che peraltro è sua figlia Alessia Mirabile. Sì, noi appunto siamo qui già sul territorio, c'eravamo già prima di questo ambulatorio, eravamo qui nelle vicinanze. Adesso stiamo cercando comunque di concludere, di esprimere al meglio il nostro sogno, che è quello di avere un servizio al pubblico, di diventare un punto di riferimento appunto per il nostro quartiere, per la zona e per tutte le persone che talvolta non sanno a chi rivolgersi e quant'altro. La cosa che a me piace di più del nostro lavoro è il fatto della nostra equip, il fatto che noi siamo tutte persone giovani e tendiamo ad avere comunque un lavoro innovativo, appuntare comunque a delle nuove frontiere, spostandoci un po' dai canoni che sono sempre stati insediati già nelle vecchie strutture. Per concludere, nascete a cavallo tra la fine del 2019 e il 2020, un modo, come dire, bello per festeggiare il Natale e per avvicinarsi in modo positivo e propositivo al 2020. Infatti, facciamo gli auguri di un felice inizio di anno a tutti quelli che ci conoscono e anche a quelli che non ci conoscono. Sarà una bella realtà immersa all'interno della grande famiglia del Centro Commerciale Liguria. Assolutamente, assolutamente. Vorremmo essere proprio un punto cardine all'interno di questo Centro Commerciale che sta nascendo e che sicuramente avrà un grande successo. In bocca al lupo! Crepi!